Weeey! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Dai yeee! Weeey! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo incredibile video! Sono Xyuderoneone, vuoi salutare? Bella ragazzuoli! Allora Efesto perché stiamo facendo un video? Non lo so, hai trovato questa cosa che non... Ragazzi io sono di spalle in modo che non la state vedendo, ho appena picconato il coso per le canne da pesca, guardate cosa c'era dentro! proat what the fuck is this signori una fiocina f che cavolo è questa cosa non ho idea ho paura di toccarla l'ho presa te la prova a sparare addosso stai fermo guardi il danno dell'arma guardiamo il danno dell'arma 75 di danno provi a pescarci con quella fiocina ai 10 colpi hai 10 colpi ma che cavolo è uscito ma secondo me sulla pozzangara non funziona e su quello ha ragione no raga dovevo fare il video devo farvela vedere provo ma scusa stai fermo secondo me stai per pescare instant cioè ma se io vado sull'albero aspetta forse non l'ho preso no è troppo lontano beh ragazzi gliela diamo a defesto io volevo farvela vedere sbronk per la fiocina grazie per aver visto questo video noi siamo in live su twitch bella ciao 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 ciao